Assistenza legale ai partecipanti al concorso Ester, quasi 4.000, coloro che erano arrivati ad Arezzo per un unico posto da infermiere, ma dopo le prove sono scoppiate le polemiche. E così, come annunciato, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale di Firenze e Pistoia ha organizzato un incontro con l'avvocato Andrea Pettini, con l'obiettivo di dare agli infermieri che hanno partecipato al concorso la possibilità di confrontarsi sui numerosi problemi emersi durante la prova. Sono stati tanti i colleghi, spiegano da OPI Firenze e Pistoia, anche non iscritti all'ordine che hanno preso parte all'incontro con l'avvocato. Abbiamo ritenuto opportuno mettere in contatto i nostri consulenti legali con tutti i candidati che riterranno di procedere con eventuali azioni da portare avanti singolarmente. Un passo ulteriore da parte di OPI Firenze e Pistoia a sostegno dei candidati. Dopo la prova aveva chiesto ad Ester di vedere le domande e poterle verificare. Insieme ad OPI Toscana si era anche unito al messaggio di tutti gli ordini regionali per stigmatizzare l'alto numero di bocciature, non tanto per il numero in sé per sé, quanto per la scelta di criteri poco pertinenti e ritenuti discutibili. Grazie. 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 Grazie.